Ciao a tutti, dopo la fine della mia storia incontrerò una donna nuova che fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda, seguo il video. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora mescoliamo le carte, tagliamo, giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere 4 casuali. La carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Allora concentrati, in questo caso devi semplicemente rilassarti, puoi anche stoppare il video, poi farò un po' di rilassamento respirando, puoi farlo ripartire, dopodiché scegliere la carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Perché hai scelto la carta 1? Beh sì, incontrerai una persona e ci sarà una sentenza positiva, diciamo così. Chi hai scelto la carta 2? Sì, incontrerai una donna molto, un po' materialista, solida, che però potrebbe essere un incontro interessante. Chi hai scelto la carta 3? Ma è l'inizio, il nuovo inizio, non sarà semplice, non sarà facile, ci vorrà un po' di tempo. Chi hai scelto la carta 4? Sì, riuscirai, dovrai presentarti in modo solido, dare l'idea di solidità, di stabilità e una nuova persona arriverà. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!